Interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. Partito con successo il servizio di trasporto pubblico per i lavoratori Leonardo di Grottaglie. Soddisfacente incontro questa mattina con le RSU della Leonardo di Grottaglie, a pochi giorni dall'avvio del servizio di trasporto pubblico per i lavoratori che, dalle province di Brindisi e di Taranto, erano costretti a raggiungere il luogo di lavoro necessariamente in auto, constatiamo con soddisfazione che il servizio prestato dalle ferrovie del sud-est comincia a dare i suoi frutti. Oltre 120 lavoratori, infatti, hanno già aderito al servizio e, terminato il periodo di ferie, sicuramente questo numero sarà destinato a crescere. Sono felice, continua Borracino, per questa pagina di buona politica, scritta grazie all'impegno dell'assessore regionale ai trasporti Giovanni Giannini, che materialmente ha messo in campo quest'iniziativa e che ringrazio per il lavoro profuso. Ovviamente rivolgo un ringraziamento anche al presidente Michele Emiliano, che già dal mese di ottobre dello scorso anno aveva garantito all'amministratore delegato della Leonardo, dottor Profumo, l'avvio di questo servizio importante. Dall'incontro di questa mattina con le RSU è emersa la necessità di migliorare il servizio per quanto riguarda le fermate. A tal proposito, informerò il collega Giannini affinché, quanto prima, si possa provvedere a tale esigenza. Sento di rivolgere un sentito ringraziamento a questi lavoratori che per anni hanno sofferto, ma non hanno mai rinunciato a questo loro diritto. E conclude così Borracino. Oggi la soddisfazione di vedere loro gioiosi, che ringraziano me in nome per conto della Regione, mi ha fatto capire ancora più l'importanza di questa azione di buona politica, che va anche a tutela dell'ambiente, stante il minor numero di auto in circolazione, oltre che della sicurezza stradale. Andiamo avanti così.